Ehi la giurma, io sono Mazzatess e questa è una video recensione del DLC Idaho per American Track Simulator Ringrazio come al solito SCS Software per avermi inviato la key per recensirvi questo nuovo DLC di American Track Simulator Idaho è il quinto DLC che va a espandere il nostro mondo di American Track Simulator Il quinto DLC che aggiunge delle parti di mappa dopo New Mexico, Oregon, Washington e Utah Che erano stati quelli precedenti Idaho è una regione del nord degli Stati Uniti e si va a collegare alla zona già espansa recentemente Con Nevada, Utah, Washington e Oregon Che sono appunto gli stati che confinano con lui Devo dire che questo stato mi è piaciuto davvero parecchio e sono contento di come l'hanno mostrato Come l'hanno reso, realizzato, riproposto su schermo Perché insieme allo stato del Washington è uno stato molto verde che ha molte foreste Ma comunque anche degli spazi naturali molto suggestivi da attraversare Mentre invece le parti più brulle del sud degli Stati Uniti mi erano piaciute un po' di meno Perché comunque questa è una cosa che volenti o nolenti riprende la geografia degli Stati Uniti Per cui appunto mi piace di più Ma devo dire che un studio particolare è stato fatto e si nota davvero A grande linea, in una scala macroscopica Su quello che sono le attività industriali e gli asset tridimensionali Che hanno utilizzato per decorare le varie città delle nostre aree abitate in Idaho In pratica ci sono tanti asset specifici per le cittadine E ci sono tante aree che sono davvero attive Con animazioni nuove, dei modelli che lavorano Dei macchinari in azione e via dicendo Questo davvero aggiunge molta vitalità, molta realisticità anche All'ambiente che andiamo ad attraversare mentre facciamo le nostre consegne Questo viene tutto esaltato maggiormente da una nuova feature Che è stata aggiunta appunto in questo DLC Idaho E che penso ne avrete già sentito Che è appunto quella dei viewpoints I viewpoints sono dei punti interessanti e attivabili Tramite un segnalino sulla mappa Uno di quei soliti hover olografici Parcheggiandosi, spegnendo il motore su uno di questi viewpoints Si attiverà una sorta di movimento della camera Che va a creare una sorta di cutscene Per mostrare quello che è il circondario di quella zona là Sono tutti dei viewpoints molto carini C'è dedicato anche un achievement relativo E nonostante non spieghino esattamente che cosa si sta mostrando In quel momento hanno un titolo Per cui ci danno un'idea di che cosa è mostrato Ci sono alcuni che mostrano la raccolta delle patate Per cui questo stato è famoso Ce ne sono altri che mostrano delle zone caratteristiche Dei ponti o degli edifici particolari Appunto con una semplice carrellata di alcuni movimenti della camera Rendono molto più gradevole E riescono a far apprezzare di più Quello che si sta attraversando Guidando il camion con le nostre consegne Devo dire che per quanto riguarda appunto la qualità SCS sta continuando a migliorare Sta continuando a investire in questi DLC E non posso che recensirlo positivamente appunto Per tutti coloro che hanno apprezzato guidare in American Truck Simulator E vogliono esplorare nuove zone Ci sono degli achievement relativi Che sono appunto abbastanza insoliti A cui siamo stati abituati Di cui ce n'è uno per scoprire tutte le città Ce n'è uno relativo alla consegna di patate Uno relativo appunto come dicevo prima Ai viewpoints Uno all'attraversamento del 45esimo parallelo Che appunto è presente in Idaho E ce n'è un altro che forse è quello pochettino più interessante E' quello di completare cinque consegne perfette Tra delle città in particolare Per cui ci sono cinque rotte Che sono da fare E una volta completate tutte e cinque Quelle darà questo cibo Io vi ringrazio per la visione di questo video Spero che sia stato utile Vi invito a lasciare un mi piace E a condividere questo video Come recensione Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti E buona giornata